Buonasera coach Massimo Bernardi dopo la bellissima vittoria 62 a 56 della tua Rimini contro chiusi coach un'altra vittoria molto importante contro una squadra molto forte direi anche con per praticamente tutta la partita giocata dalla squadra come piace a te cioè con intensità in difesa con circolazione della palla in attacco buonasera a tutti questa non è la squadra mia questa è la squadra della gente di tutti dei riminesi dei tifosi di voi e perciò perciò insomma sono contento per avere dato una gioia a tutti i nostri tifosi questa è una partita molto difficile la squadra era forte non abbiamo giocato come dico io ancora ancora dobbiamo fare dei degli step perché non siamo riusciti ad avere il ritmo che possiamo avere contro una squadra che si è messa chiaramente ad aspettare i nostri errori ha fatto per più di 30 minuti una zona molto molto statica e lì dovevamo riuscire ad essere più ad avere più energia non fare in modo che loro si schierassero tutti dentro l'area e fare più contropiede non siamo riusciti a fare quello e quindi poi dopo diventa difficile quando comincia sbagliare qualche tiro e vedi che il gioco interno non riesce perché loro hanno sempre due tre giocatori in mezzo all'area quindi dobbiamo ancora fare degli step però il la svolta che abbiamo fatto dopo dopo ozzano prima della partita di san mignato si è confermata a livello difensivo siamo riusciti a riempire l'area siamo stati soltanto un po disattenti alla fine con qualche nostro ragazzo che ha lasciato dei tiri con i piedi per terra a loro tiratori questo non deve succedere però direi proprio che la strada quella è quella buona quindi adesso domani i ragazzi avranno un giorno di riposo e poi prepariamo la partita di cecina che sarà fondamentale perché abbiamo bisogno di quei due punti per prendere una buona posizione playoff eh sì mi hai anticipato perché chiaramente ora che il campionato si avvia la conclusione o quantomeno per noi poi chiusi altre squadre avranno tanti recuperi quindi fondamentalmente si balla tra la quarta e la quinta posizione essendo avendo omegna una una partita di meno ancora da giocare quindi potenzialmente può arrivare davanti ma al di là di questi calcoli immagino che la prestazione di oggi e quella contro san miniato siano come dire delle belle iniezioni di fiducia verso la parte successiva della stagione verso i playoff sì è detto bene l'importante è pensare noi e pensare i miglioramenti che stiamo facendo e ancora dobbiamo fare e lo stato di forma di qualche giocatore ancora da 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 affinare e lo stato di fiducia di qualche ragazzo ancora da da migliorare però la strada come come dicevo è quella quella giusta calcoli non ne facciamo dobbiamo pensare solo a prendere due punti di domenica poi chiaramente non è nelle nostre mani il destino ma ci sono tantissimi scontri diretti quindi per forza di cose qualcuno perderà perciò il la nostra posizione plausibile va dal terzo al quinto posto perciò dobbiamo assolutamente pensare ad allenarci bene venerdì e sabato e preparare bene la partita di di cecina un'ultima domanda insomma abbiamo visto crow dopo la partita contro san miniato giocare appena due minuti per il problema alla schiena invece questa sera ha giocato tanti minuti ha dato un importante contributo già ieri comunque mi avevi detto che ancora era un po' incerta la sua condizione seppure miglioramento diciamo si può dire che comunque sta sta meglio sicuramente rispetto a domenica sicuro sta meglio l'ha dimostrato stasera è stato molto bravo jack si è fatto trovare pronto e ci ha dato questi suoi canestri da tre punti contro la zona che sono stati fondamentali sono stati delle boccate d'ossigeno è chiaro ancora non sta benissimo però però adesso insomma ogni giorno sarà sarà meglio grazie max ancora complimenti e buon lavoro grazie a voi buonasera a tutti arrivederci